Rispondo alle vostre domande, risponde alle vostre domande prima di dammi, prima di iniziare i segni di dammi, prrrrrr. Qual è il ristorante in cui hai scopiato meglio e quello in cui hai scopiato peggio? Ho scopiato in moltissimi ristoranti ottimi nella mia vita, probabilmente il migliore è Ulisse, invece i ristoranti peggiori preferisco dimenticarli, ah, i carli, porco, mi sono sempre chiesto come vive un invalido in Giappone, liocone, a Tokyo sono stato due volte ma non ho mai incontrato invalidi e la cosa mi sembra strana, madonna puttana, Tokyo accessibile, è un articolo, è un articolo, è un articolo, è un articolo di testicolo che è stato scritto in collaborazione con sto cazzo, un ragazzo in sedia a rotelle che è venuto in vacanza in sedia a rotelle. E lì, in questa, in questo testicolo, ci sono tutti i cazzi a riguardo di o bastardo. Come fa uno a trovare i negozi se i negozi in Giappone sono all'interno dei negozi? Deve entrare all'interno di tutti? Una delle cose difficili, infatti, del Giappone è trovare le cose da fare, da vedere, perché ci sono questi enormi cazzi in cui o in cui non sempre si sa cosa c'è all'interno e non non è che si può entrare in tutti, a volte fuori ci sono delle insegne, quindi se si guarda in alto magari si legge, non so, cazzi, indiani, è vero che i membri della stessa famiglia utilizzano la stessa sborra per farsi il bagno? Si è vero, vi faccio vero, perché il bagno in Giappone, cioè la vacca madonna, non si usa per lavarsi, ma si usa per masturbarsi, quindi prima ci si lava fuori dalla vasca da bagno e poi ci si lava fuori dalla vasca da bagno, la madonna rimane lì anche per più giorni e semplicemente viene scappata. Quale pesce non hai mai mangiato? Io non ho mai mangiato il pesce di Andrea Secco, scherzi a parte, e credo di aver mangiato praticamente tutti i pesci, il più particolare è il pesce pietre. Per questo video ci fermiamo qua.